Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, finalmente si torna a parlare della patch 1.6 di Automobilista 2, una delle release più attese di quest'anno. Reiza Studio finalmente ha rilasciato alcune informazioni e mostrato una sessione multiplayer che ci dà un'idea dei miglioramenti in arrivo in questo fantastico simulatore. Per questa versione 1.6 Reiza ha collaborato con l'Oifu Motorsport, una delle piattaforme multiplayer più popolari per testare le nuove funzionalità online. Il video mostra una griglia di ben 32 auto impegnate in una sessione di test su Road Atlanta, mettendo la prova stabilità grafica e anche il migliorato netcode. E il feedback sembra essere dai tester qualcosa di estremamente positivo. Ma parliamo di una delle novità più attese, l'arrivo della Lamborghini in Automobilista 2. Infatti nel Lamborghini Dream Pack parte 1, disponibile come DLC a 9,99€, troviamo alcune delle vetture iconiche del marco italiano, come la SC63 LMDH, la Huracan GT3 Evo 2, la Huracan Super Trofeo Evo 2 e l'esclusiva Veneno Roadster. Oltre a queste, il pacchetto Endurance parte 2 porta altre fantastiche aggiunte, come la Alpine A424, la Horeca 07 e l'Audi R8 LMS GT3 Evo. Queste vetture espandono ancora di più la griglia, affiancandosi ad auto già iconiche come l'Audi R8 LMS GT3 di prima generazione e l'Audi 4 V8. Ragazzi, anche questo a 9,99€ come secondo DLC previsto per questa V1.6. Ma ovviamente non possono mancare sorprese gratuite come l'Audi R8 LMS GT4, la Ligee GSP320 e una nuova auto per il gruppo A, l'Audi 4, ragazzi, V8. Spettacolare. Inoltre, Reiza ha migliorato alcune auto esistenti come la Corvette C8 Z07 e nella classe Supercar e la Corvette C3R per la categoria GT Classic. Ovviamente non è tutto, arrivano anche due tracciati simboli del calendario IMSA, il Sebring e Road Atlanta, ragazzi. Questi circuiti amati da molti appassionati in motorsport aggiungono ancora più varietà e sfida alle nostre gare. Oltre ai nuovi contenuti, la V1.6, ragazzi, introduce miglioramenti alla grafica, alla fisica e al comportamento degli A che avevamo già visto. Le traiettorie di pioggia e gli effetti visivi sono già stati affinati, rendendo la simulazione ancora più immersiva e realistica. Ma tornando al multiplayer, il test con Low Fuel Motorsports ha dimostrato che Automobilista 2 è pronto per grandi griglie e sessioni online veramente stabili, grazie a una serie di ottimizzazioni al netcode e all'audio. Questo rende Automobilista 2 un'opzione sempre più valida per chi ama il sim racing online. Renato Simioni ha poi introdotto nel suo articolo che non svelerà tutti i contenuti e le novità in un solo unico articolo, ma bensì lo farà piano piano per evitare di fare degli articoli lunghissimi perché le novità sono veramente tantissime. E' una buona notizia perché vuol dire che la 1.6 è alle porte, praticamente si tratta di forse qualche giorno o qualche settimana, nulla a che fare con i sette mesi di attesa che ormai sono passati. Quindi nell'attesissima release 1.0 e con il debutto della Lamborghini, nuovi tracciati e miglioramenti multiplayer, Raiza sembra quindi davvero voler alzare, lo abbiamo visto, l'asticella per quanto riguarda il suo simulatore. A questo punto mi viene da dire ma voi cosa ne pensate ragazzi di queste novità? Fatemelo sapere nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale per non perdervi altri aggiornamenti su questa patch 1.0. Che dire ragazzi? Pollice in su, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.